Non è un osso né un oietti, avanti a tutti gli spagnetti, svaro quel che non ti aspetti, ma se ne è una bestia! Ma chi è il suo amico umano? Lo trapazzo con la mano, io e lui ci divertiamo, ma se ne è una bestia! La cattiva è lei che manda, per scassare il passo e lei le aziende caperà. Se ne è tempo poi vedrà, fino a che farà! Non c'è problema, penso io a... Grazie!